18 scuole, 10 istituti comprensivi della provincia, 8 scuole superiori, due delle quali in città potranno finalmente cominciare gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti necessari ai loro edifici grazie ai fondi provenienti dal governo e regione. Si tratta di quasi 14 milioni e mezzo di euro che verranno ridistribuiti sul territorio bresciano nell'ambito del decreto mutui con cui il governo stanzerà 40 milioni all'anno per i prossimi 30 anni che verranno destinati a questo specifico scopo. Oltre 5 milioni che verranno destinati alla regione Lombardia che a sua volta li destinerà agli enti minori, province e comuni che li stanzeranno per l'edilizia scolastica. Questi fondi avranno però la funzione di attivare in tutta la regione ben 91 cantieri per una somma complessiva di 120 milioni di euro. La regione potrà infatti accedere a mutui agevolati con la Banca Europea per gli investimenti e finanziare così per l'80% gli interventi che singoli comuni hanno previsto per gli istituti scolastici di loro competenza. Si tratta di progetti, quelli riguardanti il bresciano, tutti già approvati e quindi i cantieri potrebbero aprire in tempi decisamente brevissimi. Ci sarà tempo fino al 31 ottobre per appaltare i lavori e non perdere i finanziamenti. L'istituto comprensivo di Chiari Mellino Mellini sarà quello che richiederà un maggiore investimento con 5 milioni di euro a preventivo. Al secondo posto l'intervento progettato a Bagnolomella con la realizzazione di una nuova scuola che catalizzerà l'arrivo di ben 3 milioni di euro. Poi gli interventi previsti a Coccaglio, 2 milioni, un rago d'olio, 1 milione e 120 mila euro sono fra i più corposi e impegnativi. Restano poi una serie di interventi meno invasivi dal punto di vista dei cantieri ma comunque necessari per garantire la sicurezza degli alunni ed adeguarsi a di nuovi parametri di abitabilità stabiliti dalla legge. Comincia quindi da settimana prossima la corsa contro il tempo per trovare le aziende in grado di attuare gli interventi richiesti dalle scuole.